Ieri mattina verso le 5 mio figlio ha iniziato a stare male, non riusciva a respirare, tossiva fortissimo come un cagnolino e io giustamente che già conoscevo il problema, io ho somministrato un ventelan, però ho visto che il bambino peggiorava sempre di più, ha iniziato a diventare nero, tutto viola e piangeva perché voleva essere aiutato, si metteva le mani alla gola e chiedeva aiuto. Alla fine subito ho chiamato il 118, che tempestivamente sono arrivati, c'era una dottoressa giovane bravissima che lo ha aiutato, gli ha messo subito l'ossigeno, gli ha fatto poi l'adrenalina e in più gli ha somministrato altri farmaci e endovena perché il bambino stava proprio male. Quindi grazie a questo intervento il bimbo è riuscito poi a stare bene. Tutta una serie di conseguenze favorevoli perché se non ci fosse stato l'operatore medico del 118 in quel momento occupato oppure doveva intervenire un'ambulanza da Iserni oppure addirittura da Agnone... Io sarebbe morto soffocato perché stava morendo. Quindi è l'importanza di avere proprio qui sul posto una postazione del 118 e non toglierla come si sta facendo? Sicuramente è molto importante ma non solo per il mio bambino, penso per tante altre persone che soffrono e giustamente hanno bisogno di aiuto tempestivo. Questa è una questione di, penso, di cuore, di amore verso gli altri anche. Un angelo che ha protetto suo figlio? È stato un angelo veramente. È stato veramente un angelo e una benedizione. Grazie alla dottoressa che l'ho aiutato e che poi ha aiutato anche me perché io ero in panico, in ansia. Non sapevo più cosa fare. L'ho visto lì che stava veramente male, male. Stava soffocando e se non era per lei che ha aiutato mio figlio... Oggi non stavo qui a raccontarlo. Oggi non stavo qui a raccontarlo.